Una realtà poco conosciuta, ma come il calcio professionistico, impegnata attivamente in competizioni di grande livello. È la nazionale di calcio del Regno delle Due Sicilie, selezione che raggruppa i migliori calciatori del Sud Italia, affiliata al calcio indipendente, in cui giocano le nazioni parzialmente riconosciute come Stato e quelle dei paesi non riconosciuti come Stato. Nella rosa figurano calciatori importanti come gli ex Napoli Emanuele Calaio, Fabiano Santacroce e Nicola Mora, ma anche una vecchia conoscenza del sapri calcio, vale a dire Luca Natale in Broinisi. Classe 1990 e nativo di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, ha giocato all'estero e in Italia, precisamente in serie C e D, tra cui nel sapri nella stagione 2010-2011. Natale in Broinisi ricopre un duplice ruolo all'interno della nazionale del Regno delle Due Sicilie, oltre ad esserne uno dei calciatori, infatti, neanche il portavoce ufficiale, rappresentandola così in tutto il mondo. La nazionale, insieme al presidente Massimo Amitrano e lo staff tecnico, sta lavorando sodo per i prossimi impegni calcistici, tra cui la qualificazione all'europeo, i mondiali 2024 e diversi amichevoli d'eccellenza. Ci apprestiamo a fare la storia attraverso il calcio, afferma il presidente Amitrano. Abbiamo davvero a cuore il sud della nostra penisola.